Come ogni anno rinnoviamo l'appuntamento per il Carnevale di San Terenzo, domenica 4 febbraio. In cosa consiste la giornata? La giornata si svolgerà dalle 14 alle 18 a San Terenzo. Il lungomare verrà completamente pedonalizzato a favore di tantissime attività per i bambini. Avremo la spiaggia piena di laboratori, di truccabimbi, di attività ludiche di ogni tipo. Il lungomare invece si animerà con una musica di DJ set proveniente dal palco, con Andrea Cacciamano DJ che ci allietterà della sua musica e si esibirà una parata chiamata Sogno Barocco del Teatro Scalzo di Genova. Una giornata completamente gratuita e all'insegno del divertimento, giusto? Assolutamente sì. Avremo anche il concorso della mascherina più bella del Carnevale di San Terenzo e poco prima della premiazione verranno lacciati in aria dai bambini, dei palloncini in ricordo di quella che è definita la regina del Carnevale di San Terenzo, Carla Gallerini. Com'è possibile raggiungere la località? Abbiamo istituito un servizio di bus navetta gratuito che collega il parcheggio di interscambio del Palasporte della Spezia con San Terenzo in Via Gozzano. Abbiamo tre linee, la prima partirà alle 13.30 da Spezia, la seconda alle 14.15 e l'ultima corsa alle 15.00. Il ritorno, altrettanto tre corse che partiranno da Via Gozzano a San Terenzo alle 17.15, la successiva alle 18.00 e alle 18.30.